Vuoi iniziare a fare trading ma non sai fare nulla? Hai solo 5 euro di capitale con cui iniziare? Non preoccuparti, non è necessario leggere centinaia di pagine o fare costosissimi corsi per iniziare. E inoltre non dovrai nemmeno rischiare i tuoi preziosi 5 euro. Basta aprire un semplicissimo conto demo con il nostro broker. Inizia a fare trading con 100.000 euro virtuali subito sul tuo conto a tua disposizione con cui fare pratica e diventare sempre più bravo. Potrai usare questo conto finché lo vorrai e finché non sarai diventato un ottimo trader. Che aspetti? Iscriviti. Sì, magari. Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Pietro e parliamo una volta per tutte di questi sciagurati conti demo. Inizio subito con lo specificare che non ce l'ho con nessun broker in particolare. Ce l'ho però con tutti quei broker che utilizzano e sfruttano lo strumento del conto demo per allettare degli investitori principianti a iniziare a fare trading e a fargli credere che in realtà sia facile e che basti fare qualche operazione in demo per diventare bravi trader. Ecco, a tutti questi broker... Vaffan... Ma facciamo un attimo e un passo indietro e diciamo i vantaggi di un conto demo perché ci sono alcuni vantaggi. Un conto demo, ad esempio, è molto, molto utile per imparare ad utilizzare la piattaforma perché ogni broker ha la sua piattaforma con le sue sfaccettature, con i suoi strumenti e quindi avere a disposizione un conto demo magari anche per immettere qualche ordine di prova può fare solo bene. Al posto di rischiare di fare qualche ordine sbagliato perché magari non abbiamo compreso proprio appieno come funziona magari l'immissione degli ordini che è una cosa fondamentale molto meglio avere un conto con cui provare e evitare di fare cavolate. Oppure di nuovo potete capire con un conto demo come funzionano le commissioni come vi vengono scalate e altre cose del genere quindi cose molto pratiche, molto tecniche. Un altro vantaggio dei conti demo è... Vediamo... Beh, demo è una bella parola. Demo sta sia per demonstration in inglese sta anche per popolo in greco e... Non mi viene in mente altro. Passiamo agli svantaggi anzi, a quando un conto demo è una vera e propria fregatura. Ma non voglio parlarvi di me voglio raccontare la storia di uno di voi che mi ha scritto e che ovviamente per privacy non nominerò e anzi ho cambiato anche alcune cose nella storia per evitare che sia riconoscibile. Comunque questa persona mi ha scritto su Instagram raccontandomi appunto la sua esperienza con un conto demo. Il messaggio era qualcosa del genere. Ciao Pietro, ho usato un conto demo su nome broker che ovviamente non citerò per tre mesi. Avevo ottenuto buoni risultati e ero riuscito a passare da 10.000 euro ovviamente virtuali a 15.000. Allora ho deciso di iniziare con i soldi veri. Ho depositato 3.000 euro ma dopo un mese ero già sceso a 2.000. Come mai? È possibile che trucchino i risultati sui conti demo? Beh, la risposta è no. Non è un discorso di truccare i conti demo truccare i risultati per far credere ai principianti di essere più bravi di quello che si è anche se a volte ho notato che appunto c'è questo dubbio. È molto più subdola la cosa e riguarda il nostro cervello. E qui fortunatamente ci viene in aiuto il nostro carissimo Daniel Kahneman autore di Pensieri Lenti e Veloci un libro di economia comportamentale che personalmente ho adorato. Comunque non lo prendevo in mano da un po' è un bel mattone devo dire. Il problema con i conti demo è molto semplice stiamo utilizzando soldi finti soldi finti e di conseguenza tutte le trappole in cui il nostro cervello normalmente casca quando utilizziamo questi beh, tutte queste trappole non ci sono perché sono appunto soldi finti. Di conseguenza con un conto demo non sperimenteremo mai la vera esperienza di fare trading ad esempio. E lo so, secondo me alcuni di voi staranno pensando che è tutta teoria che è roba da studiosi, da scienziati e che non c'è nulla di pratico in tutto ciò ma basta essere un po' svegli e in realtà non ci si casca. Purtroppo no, e ripeto, non è colpa vostra è colpa di questo infame che abbiamo in testa. Vi faccio comunque due esempi pratici quindi proprio concreti. Il primo esempio è legato a quella che in gergo si chiama FOMO quindi Fear of Missing Out che possiamo tradurre alla buona come paura di perdersi qualcosa di perdersi un'occasione. Quando sentiamo che ci stiamo perdendo qualcosa soprattutto se si tratta di soldi il nostro cervello non capisce più niente. Se stiamo facendo trading e ad un certo punto vediamo un grafico del genere che continua a salire, a salire, a salire la cosa più giusta da fare sarebbe cercare dei livelli quindi dei supporti o delle resistenze o comunque dei livelli chiave e valutare delle operazioni long solo su dei ritracciamenti o la rottura di questi livelli o addirittura valutare delle operazioni short se appunto abbiamo dei motivi per pensarlo. Ma quando ci sono i nostri soldi in gioco il nostro cervello pensa a una e una sola cosa Oddio ma sta tutto salendo se sale ancora di più no non posso perdermela Compra, 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 compra E quindi sì ci dimentichiamo di tutte le regole che magari abbiamo studiato e imparato e appreso con tanta fatica E se tutto ciò vi sembra assurdo magari perché state utilizzando un conto demo e quando vedete un grafico del genere non ci cascate io vi ripeto provate con dei conti in reale quindi utilizzando soldi veri pochi e vi assicuro che sarà molto diverso Ma facciamo un altro esempio che dire dell'avversione alle perdite? Siamo in perdita magari su un grafico del genere e abbiamo scelto un livello di stop loss che sfortunatamente a un certo punto viene raggiunto Se seguissimo le nostre regole sapremmo che in questo momento è ora di vendere perché è stato raggiunto il livello di stop loss Ma siccome ci sono i nostri soldi in ballo ecco che la musica cambia ed è più qualcosa del genere No ma magari risale Se chiudo adesso in perdita è perso per sempre Aspetto ancora un po' E facendo così il conto si distrugge Ecco potreste pensare che quindi leggere libri come questo vi aiuterà a risolvere questi problemi Ma la risposta è no Non ci serve a niente Ho distrutto la luce Con libri del genere sarete in grado di riconoscere i vostri errori ma lo saprete fare solamente dopo averli fatti E in conto demo non farete questi errori perché appunto sapendo che sono soldi finti non reagirete in modo impulsivo o emotivo Chi promuove i conti demo lo sa lo sa molto bene e sa perfettamente che in un certo senso fare trading con i conti demo è più facile proprio perché tutta la parte emotiva che un principiante non ha ancora imparato a dominare non c'è Quindi è come fare trading con un trader esperto che ci guarda È molto più facile L'unico modo quindi per iniziare a fare trading a investire e farlo davvero è fare realmente esperienza e non utilizzando dei soldi finti Se comunque non volete credermi vi lascio in descrizione il libro di Kahneman che sono delle bellissime 650 pagine su quante più trappole mentali ci sono veramente non potete immaginare in quanti cavolo di tranelli cadiamo quotidianamente quando si parla di soldi quindi ve lo consiglio vivamente a me ha aiutato tanto lo trovate qua sotto in descrizione Ragazzi spero davvero che sia passato il messaggio che il conto demo si può essere utile ma spesso non per i motivi per cui viene pubblicizzato Fatemi comunque sapere anche la vostra sono curioso di sapere cosa avete da dire scrivete qua sotto nei commenti e se il video vi è piaciuto se avete apprezzato il lavoro lasciate un bel mi piace qua sotto Per questo video quindi è davvero tutto io e Kahneman vi salutiamo e alla prossima